Torna a Teramo Eventi e torna per la seconda volta in Centro Storico, il 28 febbraio, dalle 16 in poi. Dettagliato il programma. Ci riproponiamo con la seconda edizione di Teramo on the road. La prima è stata fatta il 5, dove abbiamo iniziato un percorso musicale e culturale con musica dal vivo nel Centro Storico, da Piazza Martiri, Piazza Orsini, Corso Cerulli fino alla piazzetta di fronte alla Chiesa di Sant'Antonio. Ci riproponiamo con una band in Piazza Martiri, poi con un mercatino degli hobbisti a scendere sul lungo Piazza Orsini e poi un'altra band in Corso Cerulli e un'altra band ancora di fronte alla piazzetta della Chiesa di Sant'Antonio e lì metteremo anche un mercatino dei ricacchieri. Poi nella galleria del bar Davignon faremo una mostra fotografica e con l'associazione faremo anche lo scambio dei libri usati. Voi organizzate periodicamente eventi nel cuore della città oramai? L'obiettivo era fare un appuntamento mensile, ovvio che le temperature invernali sono sempre un po' proibitive però nonostante ciò abbiamo deciso di fare anche questo secondo evento per dare continuità. Adesso già stiamo iniziando la programmazione per il terzo evento e stiamo pensando un attimino di posticipare il mese in modo tale da arrivare a temperature primaverili dove lì poi ci riproporremo con un evento anche più carino e più importante anche in Piazza Martiri. L'invito ad intervenire arriva anche dal comune che ha fornito il patrocinio a Teramo Eventi. Il secondo appuntamento io ho sempre sostenuto che la ripetitività negli eventi porta successo, certo non è l'unico ingrediente, poi ci deve essere contenuto e mi sembra che in questa organizzazione Teramo Eventi, Teramo Underod il contenuto ci sia perché oltre al divertimento, chiamiamolo così, alla musica c'è l'arte, ci sono gli hobbysti e ci sono tante iniziative che secondo me possono tornare a trarre attenzione al centro della città.